Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese Allora, visto che l'altro giorno abbiamo parlato di donne tonno Oggi parleremo delle ragazze fiore di ciliegio, ovvero le sakura onna Ragazzi questo è veramente un discorso delicato ed interessante Quindi prima di iniziare lasciate un bel mi piace E commentate se vi è piaciuto il video della scorsa settimana A tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri per l'esame che ho dato questo martedì E vi ringrazio a tutti perché l'esame è andato molto bene e è stato anche grazie a tutti voi Ho registrato l'interrogazione quindi vabbè non vi svela ancora il voto Però spero che vi divertirà vedere il video Ho chiesto di fare ricevimento con l'insegnante per vedere se posso pubblicarlo o meno Perché comunque si tratta di un esame di stato Quindi non so quanto posso farvi vedere e quanto l'insegnante sia d'accordo Ma ci sono tutti buoni propositi per farvelo vedere perché è stata un'interrogazione davvero interessante Oggi allora parliamo di queste donne che ragazzi soprattutto Mi riferisco più che altre ragazze perché sono più dei target per queste donne Soprattutto se usate applicazioni come Tinder perché in Giappone si insidiano queste donne Sakura Iniziamo subito a capire che cosa vuol dire Sakura Vabbè Sakura tutti sanno che sono i fiori di ciliegio Tuttavia Sakura ha anche un altro significato Per esempio quando andate a prendere una casa in affitto Sapete che fuori da queste appart... Case immobiliari? Come si dice? Case immobiliari? Ehm... A few minutes later Fuori da queste agenzie immobiliari spesso si vedono questi appartamenti favolosi Vicino alla stazione che costano pochissimo Ecco questo in giapponese si dice Sakura Perché sono degli appartamenti che realmente non esistono E sono lì solo per accalappiare gente che voglia prendere una casa in prestito da loro Entrerete voi gli chiederete magari la casa che avete visto fuori E loro vi dicono Oh mannaggia quella casa è stata appena presa L'hanno appena affittata delle altre persone In realtà tutte queste cose che vi raccontano sono bugie nella maggior parte dei casi E quelle case che voi avete visto da fuori sono semplicemente delle pubblicità fittizie Un po' come gli account che potrete trovare su Tinder Ragazzi ho trovato un articolo che ne parla Ve l'ho tradotto per voi Ho deciso di parlarne perché c'è questo utente che ha fatto un sacco di ricerche su Tinder Per chi non lo sapesse Tinder Penso che tutti lo sapete Però è un'app per trovare partner Comunque una dating app In cui si possono conoscere persone Si possono fare degli incontri Lui è andato ad indagare Si è chiesto quanti di questi utenti Sakura esistono su Tinder Ma andiamo adesso a vedere le caratteristiche di queste donne Sakura Innanzitutto parto con fare una distinzione Cioè questo articolo faceva questa distinzione Tra le ragazze Sakura vere e proprie E le ghiosha Allora le ghiosha che sarebbero praticamente dei commercianti Sono magari delle aziende che sono lì perché magari vi vogliono proporre Una ragazza che magari lavora in un determinato Mizu Shobai Mizu Shobai letteralmente vuol dire negozio che ti vende l'acqua Sono dei locali in cui voi potete parlare con delle signorine E il costo di una bottiglia di birra ha un prezzo strabiliante Quindi per quello dicono proprio che vi vendono l'acqua Perché magari potete finire per spendervi l'intero stipendio in una serata Quindi ci sono sia questi commercianti che cercano di farvi entrare nel loro locale Ma ci sono anche le Sakura che invece cercheranno di prendervi le vostre informazioni In realtà la ragazza che voi vedrete Magari non è nemmeno una ragazza che esiste Cercheranno di prendervi le vostre informazioni E cercheranno di rubarvi dei soldi Quindi state molto attenti I primi indizi per riconoscere se una ragazza è Sakura o meno Sono innanzitutto la foto e la descrizione che hanno su Tinder Perché se la foto sembra quella di magari qualcuno di famoso Comunque può anche essere un selfie o una foto scattata da un altro Però di una ragazza particolarmente bella Molto spesso si tratta di appunto queste ragazze Sakura E magari hanno un'unica foto profilo Se c'è un'unica foto profilo nel loro account Molto probabilmente si tratterà di queste ragazze Sakura Cosa consiglio io è di prendere questa immagine Fare una ricerca su Google Immagini Voi potete mettere proprio l'immagine su Google Caricarla e potrete arrivare alla fonte E scoprirete se magari si tratta di un'immagine Sakura o di un'altra Perché magari anche foto fatte da altre selfie eccetera Possono essere prese magari da altri account Instagram Non è detto che magari il personaggio sia famoso Può essere un'altra ragazza comune Che però rispecchia magari i gusti di possibili uomini Che magari finiscono per scambiare informazioni private O spendere soldi per queste ragazze Che non incontreranno mai Perché sono delle ragazze che praticamente non esistono Sono degli incontri fittizi praticamente È una truffa vera e propria Un'altra cosa è che spesso queste ragazze magari mettono immagini di lusso Di hotel belli dove sono andate O magari di guadagni che hanno fatto Anche questo è un altro indizio perché ti fa pensare che comunque sono ragazze interessate al lusso E che comunque magari hanno insomma degli interessi a farvi spendere dei soldi Ci sono anche alcune di queste A raccontava C'erano proprio anche dei tweet che diceva che praticamente Sono queste ragazze che magari fissano l'incontro E poi quando vi incontrate prima dell'incontro Vi chiedono però per essere più tranquille di inviarle 20.000 o 30.000 yen Quindi 200 o 300 euro prima dell'incontro e poi spariscono C'è da dire comunque che questa cosa molto spesso Questi account Sakura di ragazze Sakura Sono fatte direttamente dagli stessi creatori delle app Non si tratta di Tinder perché Tinder comunque è un'app che è stata fatta all'estero Ed è estremamente famosa Però magari app più piccole molto spesso mettono di questi account fittizi Allo scopo appunto di lucro C'è anche da dire che molto spesso Sono anche delle ragazze straniere che possono rientrare in questa categoria Dal sito quello che era emerso è che molto spesso sono ragazze dell'Asia dell'Est Cercano un marito Oppure lavorano in magari questi locali che vi ho descritto prima Un altro elemento comunque che può farvi saltare comunque una campanellina d'allarme E se nella loro frase comunque in cui si descrivono Sapete che c'è una specie di piccola biografia Mettono subito il loro account Instagram o il loro account line So che Instagram ormai è comunque molto utilizzato E quindi su molte app di incontri la gente pubblica il loro Instagram senza problemi È un modo anche per connettersi Soprattutto per quanto riguarda magari noi occidentali O comunque all'estero si fa molto spesso Mentre in Giappone non succede così spesso Sapete all'interno dell'app di Tinder non si possono inviare dei link Quindi magari queste ragazze chiedono di scambiarsi Instagram Che così possono inviare un DM con un link che magari può rubare le vostre informazioni Questo succede sia con Line Line per chi non lo sapesse è un'app molto simile a Whatsapp Che però è più usata di Whatsapp in Asia Almeno soprattutto in Giappone Quindi ragazzi che dire Fate moltissima attenzione Perché comunque queste ragazze Sakura esistono Ed è bene starci alla larga Io ragazzi non so se qualcuno di voi ha mai usato queste applicazioni Se questa cosa succede anche in Italia O se succede soltanto in Giappone Avevo fatto quel video sull'agenzia matrimoniali Che ve lo lascio qui Dicevo che comunque molte ragazze si sentono più sicure a trovare un ragazzo Attraverso delle agenzie matrimoniali Perché su queste app non sono molto sicure Dovete sapere che comunque in Giappone in particolare La maggior parte di questi account comunque fittizi Detti Sakura Si concentrano soprattutto su applicazioni come Tinder O comunque su applicazioni straniere Perché le applicazioni giapponesi per legge Tu per poterti registrare in una app di incontri Deve essere praticamente riconoscibile la tua età Quindi se hai meno di 18 anni O non hai un numero di telefono Non riuscirai a registrarti Mentre per quanto riguarda Tinder Da quel che ho sentito Ti basta un account Facebook Giusto? Quindi non credo che sia necessario un numero di telefono Non vorrei dire stupidaggini Però con lo stesso account Facebook Potete creare anche più account Almeno su questo sito c'era scritto così Vi lascio il link in descrizione comunque di questo articolo Se vi potesse interessare È tutto in giapponese Però spero che comunque possa interessarvi Ragazzi io spero che questi video un pochino più tranquilli Vi possano piacere E adesso proprio a giorni Sto per partire per il Giappone Ho già finalmente scelto la mia casa Devo dire che per le prime due settimane Dovrò dormire su un futon Perché il mio letto arriverà l'8 marzo Non è la festa della donna O è il 9 Vabbè non lo so Comunque finché non mi arriverà a letto Dormirò su un futon Ditemi se volete il tour della casa Che ve lo farò È una mansion Quindi sarà una casa abbastanza moderna Non grandissima Però vicino alla palestra Che sapete per me è estremamente importante E che dire Grazie sempre per vedere questi video Noi ci vediamo al prossimo Se ancora non l'avete fatto Lasciate un mi piace E un abbraccio da Seba Ciao Ciao Ciao